Prima di aprire questo locale c'avevo il palino del basket. Io e il mio socio una sera fuori dalla palestra ci siamo detti sarebbe bellissimo aprire il locale, perché non lo facciamo? Mi piace saper consigliare la birra giusta, spillate in una certa maniera, servite in una certa maniera. Noi abbiamo scelto Stelartois per distinguerci, cioè la senti subito la differenza. Apriando questo locale penso di avere raggiunto il massimo e sono soddisfatto. Apri una stella, entra in bireria. Non sai cosa ti perdi? Per me Light, tu non sai cosa ti perdi. È cremoso. Anche il mio. Oh, ha la frutta. Anche il mio. I pezzi di frutta. Anche il mio. E ci sono i fermenti vivi. In più Parmalat Light ha solo 47 calorie, Pietro. 47 calorie anche per il Signore. Parmalat ti fa amare lo yogurt. Parmalat ti fa amare lo yogurt. Nessuno come te. Tele più uno. Il cinema. Un doppio audio. Tele più ama il cinema da 5 anni. 24 ore al giorno. Appassionati di musica e cinema, un appuntamento da non perdere. L'uno e due giugno in occasione del quinto compleanno di Tele più, speciale Sound in Motion da Los Angeles. Le colonne sonore leggendari, i grandi miti del rock, i più bei film sul jazz, sul rap, sulla musica nera, testimonianze celebri, interviste ai protagonisti. Ricordatevi, l'uno e due giugno alle ore venti su Tele più uno, speciale Sound in Motion da Los Angeles. Tele più uno. Compie cinque anni di amore per il cinema. È uno degli eventi cinematografici più attesi. I protagonisti più prestigiosi l'hanno consagrato. A giugno, il Davide di Donatello torna a brillare. In diretta e in esclusiva su Tele più uno. Giugno, inizia un'estate da sballo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Dai più ritmo alla tua estate di sport con Telepiudur. Grazie a tutti. 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 Telepiudur compie cinque anni. La vostra fedeltà sarà premiata. Siete abbonati? Siete in regola con l'abbonamento? Tenete pronto il vostro codice abbonato e... Preparate le valigie. Preparate le valigie. Grande cinque. Cambia musica. Cambia musica. C'è Aperol Soda, l'aperitivo con tanto gusto e tanta leggerezza. Solo tre gradi. Aperol Soda, l'aperitivo giusto che conquista il gusto. Aperol Soda, l'aperitivo con l'abbonamento, l'aperitivo con l'abbonamento. Aperol Soda, l'aperitivo con l'abbonamento. Aperol Soda, l'aperitivo con l'abbonamento. Siamo in ritardo? No, la riunione è tra un'ora. Ti va un croissant? E la riunione? Pensiamoci dopo colazione. Audi A4, la velocità senza la fretta. Spesso nelle giornate di festa si mangia molto. Allora, mettetevi uno o due giorni a peso forma. Due barrette di peso forma sostituiscono un pasto e ci sono anche le minestre. Peso forma, perdi peso e resti in forma. La seguente visione è consigliata ai maggiori di 14 anni. O%, la precedenza. Di mani. La seguente visione èindicabile. E già deve fare